webinar e i relatori di oggi. Allora, buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto in questo webinar Investire nel Comune Digitale perché anche un piccolo comune deve diventare digitale. Di questo parleremo questo pomeriggio. Come sapete il webinar si svolge nell'ambito delle attività del progetto FAST verso la transizione digitale. Chi di voi ha partecipato al webinar della volta scorsa del 3 febbraio sa già di cosa si tratta, ma immagino tutti voi lo sappiate visto che avete partecipato alla manifestazione di interesse. Il progetto FAST supporta i piccoli comuni su tutto il territorio italiano nella transizione digitale, quindi vuol dire nel mettersi al passo con gli obblighi normativi del digitale previsti dal CAD, dalla normativa nazionale, ma in generale noi vorremmo proprio supportarvi anche proprio per pianificare la transizione al digitale. Come lo faremo? Realizzeremo con voi dei microprogetti, dei veri piccoli progetti di trasformazione digitale che saranno visti, saranno coprogettati con voi e tarati sullo stato di bisogno, sulla base delle vostre esigenze. Per farlo avremo delle task force su tutto il territorio nazionale, saranno composte da esperti senior e junior che quindi vi contatteranno più avanti per fare prima di tutto un assessment digitale e poi per fare la coprogettazione di questi microprogetti. Quindi vi ricordo che siete in totale 285 comuni, avete aderito alla manifestazione di interesse e noi abbiamo presentato le attività del progetto il 3 febbraio, in un webinar del quale esiste la registrazione ed è già disponibile, poi più tardi vi dirò dove la trovate. Quindi una cosa importante è come decideremo i temi dei prossimi webinar, lo vorremmo fare insieme a voi, nel senso che quello di oggi è il primo di un ciclo che andrà avanti per alcuni mesi. Noi abbiamo, a parte il webinar di oggi, abbiamo già fissato il tema del prossimo webinar che sarà il 16 marzo e sarà sempre di pomeriggio alle 15 e sarà sul cittadino digitale, questo è il tema. Però per decidere i temi dei prossimi webinar lo vorremmo fare con la vostra collaborazione, quindi nella seconda parte del webinar vi sottoporremo un sondaggio con un elenco di 11 temi all'interno dei quali vi chiediamo di scegliere e quindi già nel prossimo webinar probabilmente vi potremo dire quali sono i temi che sono stati scelti da tutti. Quindi partiamo allora col webinar di oggi. Di cosa parliamo? Abbiamo detto perché anche un piccolo comune deve diventare digitale e quindi vedremo a partire da una un po' da una ricostruzione dell'evoluzione digitale della pubblica amministrazione italiana, vedremo una panoramica su quali sono i principi, gli obiettivi e gli strumenti proprio per attuare un efficace processo di transizione digitale e poi vedremo invece più in particolare per i piccoli comuni questo cosa vuol dire e quindi come superare gli ostacoli che può incontrare un piccolo comune e come quindi pianificare la transizione al digitale. Con chi lo vedremo? Allora ecco i relatori di oggi. Io eh aspettate condivido condivido lo schermo così ho il programma ecco qua. Eh quindi vedremo prima di tutto la parte sull'evoluzione del digitale nella pubblica amministrazione con Antonella Fancello eh docente dell'Università di Cagliari e Sassari sul tema amministrazione e gov. Poi vedremo invece la parte sul sistema della PA digitale quindi la transizione digitale obiettivi, principi, attori, strumenti con David Harris. David è un esperto di transizione digitale, è stato direttore generale del comune di Sassari e amministrazione amministratore unico di Sardegna IT che è la l'azienda ICT della della regione Sardegna. Poi vedremo il processo parleremo quindi dei comuni in particolare del processo di transizione digitale dei piccoli comuni, degli ostacoli che i piccoli comuni hanno, li conoscete benissimo, eh e di come però iniziare a a pensare, a pianificare, di superarli. Lo vedremo con Michele Vianello, un esperto di transizione digitale, in particolare di transizione digitale proprio dei comuni, degli enti locali, anche dei piccoli comuni. Eh è stato anche vice sindaco del comune di Venezia e altre cose magari ce le racconterà lui. Come vi dicevo eh dopo gli interventi dei nostri relatori avremo il sondaggio col quale vedremo, vi proponiamo i temi di dei webinar tra i quali potrete scegliere, la sessione domande e risposte e eh la chiusura alle sedici e trenta. Quindi vi vi anticipo che potete scrivere in chat eventuali domande, le sottoponiamo in relatore alla fine del webinar e che tutti riceverete il link alla registrazione di questo seminario e anche ai materiali. Con questo eh interrompo la condivisione passo la parola ad Antonella Fancello. Eh Antonella aspetto di vederti in video. Perfetto. Ci sono. Buonasera a tutti. Mi vediamo. Prego Antonella. Vado con la condivisione. Eccoci ditemi se vedete. Lo vediamo. Perfetto. Mi riduco un istante la schermata laterale. Allora intanto buonasera a tutti. Eh è un piacere per me eh raccontare oggi ciò che normalmente racconto ai ragazzi all'università che il processo di azione della pubblica amministrazione italiana ma mi piace farlo con i rappresentanti anche dei comuni italiani in questo caso i piccoli comuni perché in realtà l'obiettivo di questo racconto di questa sorta di viaggio del tempo che faremo tra un attimo è quello di avere contezza del fatto che tutto ciò che si sta realizzando in questo momento e che avremo ancora di più probabilmente la possibilità di aver realizzato grazie ai quarantotto miliardi di investimenti previsti dal PNRR per la prima missione dedicata al processo di digitalizzazione eh in realtà è stato già pensato molto tempo fa eh ed è forse questo la prima qualcuno dice l'unica volta in cui non avremo più scusanti non avremo più eh come dire non non avremo più nessun motivo per dire non lo dobbiamo fare non riusciamo a farlo anche se come vedremo tra un attimo non è solo una questione economica allora partirei subito col dare rilevanza alla parola transizione che in realtà col tempo nel tempo è andata a sostituirsi alla parola trasformazione digitale rivoluzione digitale perché c'è stato un momento in cui anche il legislatore italiano si è reso conto che digitalizzare la pubblica amministrazione quindi di intervenire prima sull'atto amministrativo poi sul procedimento amministrativo non aveva solo delle eh finalità che potessero essere eh legate a a l'efficienza della pubblica amministrazione ma dovevano anche avere dei risvolti in termini di efficacia quindi di risultati nei rapporti cittadini di qualità dei servizi di accessibilità temi che all'inizio non erano stati ben individuati all'inizio si disse immettiamo nuove tecnologie mettiamo i eh computer in una logica prevalente di e-government quindi per migliorare il lavoro dall'interno del back office della pubblica amministrazione da un certo momento in poi con la trasformazione di digitale quando il digitale ha cambiato letteralmente la vita dei cittadini l'abbiamo toccato con mano nel periodo della pandemia ma già prima si avvertiva questo cambiamento culturale allora anche il legislatore italiano ha si è posto più in un'ottica di eh come dire eh cambiamento di rapporto e di digitalizzazione che in qualche modo eh serviva per migliorare il rapporto tra il pubblico eh e il cittadino è un cambiamento culturale che coinvolge cittadini e imprese tutto il capitale umano quindi qui non si fa la distinzione tra piccoli o grandi comuni eh e che in qualche modo deve essere accompagnato infatti quel che si dice che in realtà c'è moltissima necessità all'interno delle pubbliche amministrazioni più che del tecnocrate di chi accompagni la struttura al cambiamento con un'ottica sempre fuori dal palazzo quindi con un ottica con un occhio sempre rivolto ai cittadini che poi saranno sono i diretti fruitori dei servizi che verranno erogati attraverso il digitale ho immaginato abbiamo immaginato una sorta di e-government timeline intanto diciamo che l'e-government è quell'ambito dell'informatica giuridica che studia che analizza il processo di digitalizzazione eh di un paese non solo dell'Italia ehm in questo modo eh come dire ehm intervenendo oggi su questi temi eh abbiamo un'idea un un pochino più precisa sul perché oggi abbiamo speed usiamo una carta di identità digitale perché esisterà una piattaforma nazionale dati o che cos'è l'anagrafe nazionale della popolazione residente una timeline ideale che parte lo vedremo tra un attimo dalla fine degli anni settanta e che arriva fino ad oggi con il superamento di quella che viene chiamata la clausola di invaranza finanziaria che è una clausola inserita nell'articolo novanta del codice dell'amministrazione digitale che è il corpus normativo che riunisce tutte le norme che regolano il processo di digitalizzazione che diceva che tutto quello che c'era contenuto nei primi ottantanove articoli doveva essere realizzato a costo zero ecco da questo momento in poi non esiste più il costo zero perché in realtà già prima del PNRR un paio di anni prima con eh il fondo innovazione i soldi per la digitalizzazione da qualche parte stanno arrivando sta a noi non perdere il treno non perdere questa grandissima opportunità allora questo è il viaggio che faremo adesso in in venti minuti eh partendo dal millenovecentosettantotto tra un attimo vi spiegherò chi è questo signore che si chiama Giovanni Duni e arrivando all'attuale sottosegretario all'innovazione che si chiama Alessio Butti in un'ottica di proiezione al venti ventisei che è quella delle del degli obiettivi dell'avvio dei progetti per il PNRR diverse tappe diverse tappe che hanno costruito questo digitalizzazione con tre milestone tre pietre miliari importanti che sono le tre leggi sulla trasparenza e l'accesso perché perché la storia della trasparenza e dell'accesso amministrativo è anche un po' la storia del processo di digitalizzazione nella due quattro uno del millenovecentonovanta non si faceva menzione dei computer perché non esiste non non era non era stata ancora avviata la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi ma proprio la due quattro uno dal novanta è quella che è stata negli anni più innovata di tutte come leggi che regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni proprio perché quel procedimento è diventato via via digitale vi anticipo che in un futuro non lontanissimo e quando si sarà espresso il garante della privacy noi potremmo accedere al procedimento amministrativo attraverso l'applicazione io quindi logandoci con il nostro speed piuttosto che con la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi potremmo accedere potremmo esercitare il nostro accesso civico da legge due quattro uno del millenovecentonovanta comodamente da casa con il nostro smartphone millenovecentonovanta duemila e tredici duemila e sedici accesso eh documentale accesso civico accesso generalizzato tre momenti della legislazione italiana che in qualche modo hanno influito anche nel eh come dire dare un minimo di accelerazione al processo di digitalizzazione con un po' più più di riguardo a quello che io con i ragazzi chiamo l'ultimo miglio dal duemila e sedici al duemila e ventidue eh quindi dalla gestione commissariale del del processo di transizione digitale passando per i due ministri la ministra Paola Pisano il ministro Vittorio Colau e l'attuale sottosegretario è stata impressa un'accelerazione un po' più eh diciamo sostenuta in realtà la vera accelerazione è stata impressa dalla riforma del CAD della riforma DIA e in questi ultimi sei sette anni che stiamo cominciando a vedere i risultati di ciò che è stato avviato da Franco Bassanini nel novantasette quindi è adesso che tocchiamo con mano gli effetti della digitalizzazione. Allora inizio con questo signore non solo perché è stato il mio professore di diritto amministrativo all'Università degli Studi di Cagliari ma perché è il primo teorizzatore italiano del file avente valenza giuridica in un procedimento amministrativo. Questo signore oggi oltre ottantenne compila ancora la voce dell'enciclopedia giuridica a Treccani la voce e-government ed è stato il primo in una nota seduta alla Corte di Cassazione di Roma a dire guardate che questo pezzo di carta può essere agevolmente sostituito da un file da un insieme di dati a cui viene dato un nome. Allora mancava il concetto di firmare elettronicamente quindi di dare paternità e validità probatoria al documento però fu lui eh preso assolutamente per pazzo a quei tempi a dire per primo parlando di teleamministrazione la chiamo così che prima o poi ci sarebbe stato un momento in cui la carta sarebbe stata sostituita dai file. Con la legge 241 del 1990 che abbiamo già eh di cui ho già detto qualcosa non si vede ancora un passaggio ad un minimo di eh considerazione del del file del documento elettronico eh si parlerà qualche anno più tardi di supporto elettromagnetico sul quale potranno essere memorizzati memorizzate le informazioni non ancora i dati per per parlare di dati dobbiamo aspettare al al duemila e tredici al decreto trentatré del duemila e tredici ma deve essere necessariamente citata nella storia del processo di digitalizzazione perché è la legge italiana più modificata nel tempo a causa dell'innovazione digitale della transizione digitale. Nel millenovecentonovantatré nasce l'autorità italiana per l'informatica nella pubblica amministrazione. Fu presiduta da un signore che si chiamava che si chiama Guido Maria Rei che era eh alla guida dell'Istat. Intanto eh comincio a dirvi che la gestione di questo processo di digitalizzazione che poi è transizione passa di mano in mano da ministri della funzione pubblica a ministri della digitalizzazione o della transizione digitale. In realtà di questi ultimi ne abbiamo avuto veramente pochi perché abbiamo avuto eh Lucio Stanca, abbiamo avuto Paola Pisano, abbiamo avuto Colau. In tutti gli altri periodi storici eh italiani la la palla era della funzione pubblica quindi eh il ministero che più di tutti ha dovuto occuparsi della transizione digitale è stato la funzione pubblica. Nasce l'autorità italiana per l'informatica nella pubblica amministrazione che ricordiamo è eh nonna o bisnonna eh di di quello che poi è diventato lo CNIPA la eh poi digitPA e oggi è AGID dal duemila e dodici che esercita con un proprio statuto dal duemila e quattordici l'agenzia per l'Italia digitale nata eh in seguito all'adesione dell'Italia all'agenda digitale europea. Eh Guido Maria Rei eh la definì un'autorità poco autorevole proprio perché in realtà era stata istituita questa agenzia che doveva occuparsi solo della digitalizzazione delle amministrazioni centrali non veniva molto ascoltata in realtà chi eh aveva il comando della situazione anche allora era la funzione pubblica però è bene citarlo perché redò il primissimo piano triennale della storia il piano triennale novantacinque novantasette questa è la copertina sviadita che si trova in rete non entrò neanche in legge di bilancio però all'interno di quel piano triennale ci sono i capisaldi di tutto ciò che ritroviamo oggi realizzarsi nei piani triennali attuali. Si cominciò a parlare di rete unitaria della pubblica amministrazione quindi a livello di connettività di formazione dei eh dipendenti pubblici eh sul fronte della digitalizzazione di sistema integrato catasti comuni di mandato elettronico di pagamento sportello informativo trasferimento informazioni tra PA quindi l'interoperabilità dei sistemi la gestione dello sviluppo informatico il protocollo e la gestione documentale la sicurezza udite udite già da allora la sicurezza dei sistemi informativi ehm Guido Maria Rei tra l'altro disse una cosa molto importante alle pubbliche amministrazioni di allora non è importante che acquistate il più bel computer la cosa importante è che il vostro computer dialoghi con tutti gli altri quindi da questo punto di vista lancio i capisaldi dell'interoperabilità e dalla risoluzione del vero problema dei problemi cioè fare sì che tutte le banche dati interoperando possano parlare lo stesso linguaggio che è probabilmente l'obiettivo che raggiungeremo adesso con la piattaforma nazionale dati attraverso anche attraverso i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza arriva Franco Bassanini quindi funzione pubblica che riesce ad agire per ben quattro governi Franco Bassanini comincia a mettere le pietre miliari più importanti perché definisce eh il documento elettronico si comincia a parlare di firma elettronica avvia eh attraverso la strategia di Lisbona a cui lui partecipa più società di per le informazioni per tutti era lo slogan della strategia di Lisbona avvia il primo piano i government e introduce quell'importantissimo concetto che ci portiamo dietro ancora difficilissimo da attuare del cittadino che deve poter eh esibire atti documenti una sola volta questo vuol dire once only che di fatto tutte le pubbliche amministrazioni in una logica di interoperabilità non dovrebbero più tediare il cittadino chiedendogli sempre lo stesso certificato e lo stesso documento perché già lo possiedono ok questo eh cominciò a dircelo Bassanini nel nel novantasei duemila e uno nel duemila e uno cambio di governo passiamo dal centro sinistra al centro destra perché poi eh assistiamo ai vari cambiamenti dalla funzione pubblica e questo è un vero e proprio passaggio eh alla della digitalizzazione venne passata al primo ministro per la digitalizzazione della storia della Repubblica Italiana che Lucio Stanca. Lucio Stanca arriva dalla presidenza eh IBM un informatico quindi l'alternanza è anche se giuridici con informatici. Franco Bassanini un giurista Lucio Stanca un ingegnere informatico. Cosa fece Lucio Stanca? Criticò aspramente la gestione dell'autorità italiana per l'informatica nella pubblica amministrazione stravolse l'organizzazione chiamandola CNIPA centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e arrivò in un momento particolare in cui una comunicazione del Consiglio europeo diceva a tutti i paesi membri occhio alli governamente dovete fare qualcosa perché il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione venga messo all'ordine del giorno delle vostre agende politiche riceve il mandato dal Parlamento e eh da vita al codice dell'amministrazione digitale lavoro molto complesso risultato dell'attività di una commissione apposita che riunì tutto ciò che era stato prodotto fino a quel momento in tema di digitalizzazione quindi lì dentro c'era Bassanini e tutto quello che fino a quel momento era stato prodotto il codice dell'amministrazione digitale che tra l'altro sta per compiere diciotto anni li compie tra qualche giorno eh è curioso leggere allora che nonostante fosse eh una legge del sette marzo duemila e cinque vennero dati nove mesi di tempo alle pubbliche amministrazioni per adeguarsi quindi entrò in vigore il primo gennaio duemila e sei in realtà possiamo dire che non è ancora entrato completamente in vigore perché è uno dei codici più eh disattesi del del dell'ordinamento italiano ehm lo stesso anno prima di procedere con l'agenda digitale eh entrano in vigore le norme sulla PEC sulla posta elettronica digitale eh sulla posta elettronica certificata scusate eh crisi economica del duemila e otto l'Europa individua eh l'agenda digitale come uno delle sette azioni chiave da perseguire da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea per una crescita intelligente inclusiva e sostenibile l'Italia aderisce siamo dentro il governo Monti avvia eh il lavoro di una cabina di di regia nomina l'agid come agenzia per l'Italia digitale che eh si porta sulle spalle il carico del raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale e l'agid redige la prima strategia per la crescita digitale quattordici venti nel duemila e tredici entriamo in in un ambito in cui qui siamo già qui siamo nel primo brunetta come dico io eh in un ambito in cui si comincia a parlare anche a livello di riferimenti normativi non più soltanto di informazioni ma anche di dati eh in in questo decreto si dice i documenti le informazioni e i dati oggetti di pubblicazione obbligatoria eccetera eccetera per la prima volta non c'è solo il documento non c'è l'informazione ma anche l'unità primaria il dato l'unità primaria dell'informazione nel duemila e quindici la riforma torniamo alla funzione pubblica come responsabilità Marianna Madia ministro per la funzione pubblica riforma il CAD è considerata la più importante delle riforme del CAD la prima parte si chiamerà carta della cittadinanza digitale compaiono per la prima volta i diritti di cittadinanza digitale ed è lì all'interno che eh compaiono per la prima volta sigle quali eh speed eh quindi identità digitale eh ANPR anagrafe nazionale della popolazione residente che in realtà come idea l'aveva già avuta Bassanini ma è qui all'interno del CAD che per la prima volta si mettono dei punti di riferimento un po' più specifici eh per la sua attuazione e sempre con Marianna Madia che che abbiamo il terzo step del diritto d'accesso quindi non più diritto d'accesso documentale non più diritto d'accesso civico a ciò che la pubblica amministrazione è obbligata a pubblicare nel nella sezione amministrazione trasparenza ma io che posso avere accesso a tutti i dati e le informazioni prodotte alle pubbliche amministrazioni tranne ovviamente quelle eh coperte da privacy e da segreti vari e la pubblica amministrazione che tre entro i trenta giorni mi deve rispondere o mi deve dare motivazione del suo diniego tutto attraverso una modalità digitale il fardello che si porta dietro questa riforma del CAD è grande per cui viene affidata una gestione commissariale al raggiungimento degli obiettivi di quell'evoluzione del CAD al team per la trasformazione digitale con un commissario straordinario Diego Piacentini nasce il primo vero e proprio piano triennale per l'informatica per la PA il diciassette e diciannove la cui trasposizione poi vediamo nel venti ventidue nel ventuno ventitré e infine nel ventidue ventiquattro che è quello che è stato pubblicato da Agid nel mese di gennaio che contiene tutti i principi già contenuti nel piano triennale il team per la trasformazione digitale chiudendo il suo eh opere chiudendo il suo lavoro ci dice siamo solo al giorno uno comincia a dire eh qui eh bisogna attivarsi bisogna lavorare e non è solo una questione di fondi è un momento in cui la pubblica amministrazione non dovendo perdere questo treno in realtà l'ha scritto nel duemila e diciotto ma è come se l'avesse scritto oggi deve adoperarsi perché ci sia un vero e proprio cambio di passo all'interno un cambio di passo culturale dice anche cittadino al centro è il momento della transizione abbiamo un ministro cioè o meglio dovremmo avere un ministro in quel momento sta anche dicendo basta con le strutture commissariali è giusto che la transizione digitale venga affidata ad un ministro vele proprio ed è da quel momento che mh con la nomina di Paola Pisano la la digitalizzazione subisce un'accelerazione vado veloce perché il mio tempo sta per scadere nel frattempo nel duemiladiciotto entra in vigore il eh il regolamento europeo sulla privacy che introduce molta cultura del dato introduce un concetto molto importante di privacy che non è più farsi fatti propri avere il diritto di farsi i fatti propri ma il diritto a sapere che fine fanno i nostri dati eh un nuovo concetto di privacy di cui probabilmente anche le pubbliche amministrazioni devono avere maggior contezza oltre che ovviamente i cittadini il team per la trasformazione digitale diventa il dipartimento per la trasformazione digitale Paola Pisano agisce con uno switch off importantissimo istituisce il fondo innovazione e tutti i comuni devono presentare dei progetti entro il ventidue febbraio venti ventuno per dimostrare che i propri servizi online stanno migrando con accesso esclusivo con speed carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi è ciò che sta segna il vero e proprio cambiamento perché fino ad allora non c'era sta non c'è mai stata una deadline che avesse detto che da questo momento non potranno più essere prodotte nuove user ID e password come ha fatto IMS all'inizio ora si stanno adeguando tutti ma dovete entrare solo attraverso queste tre modalità Vittorio Colau ministro nuovo DL semplificazioni che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano le sanzioni per le amministrazioni che disattendono l'obbligo della della transizione digitale che disattendono tutti quegli obiettivi che devono essere raggiunti attraverso il piano triennale col eh il piano nazionale di ripresa e resilienza dentro il piano confluiscono tutte le azioni previste per speed anagrafe nazionale della popolazione residente pago PA io app e ovviamente l'accesso ai servizi mh per per accedere per per aver vedersi finanziati i progetti del PNRR avvengono attraverso una piattaforma eh meravigliosa viene considerata un gioiellino magari chi mi ascolta non è d'accordo però da più parti si dice che questa cosa l'abbiamo fatta veramente bene che PA digitale venti ventisei nasce l'agenzia per la cyber sicurezza nazionale vi sto dando un quadro di come la governance cosiddetta sia cambiata in maniera così veloce in così poco tempo perché evidentemente anche in tempi di guerra ibrida la cyber sicurezza è fondamentale la sicurezza dei dati dei cittadini nascono i data center cioè il polo strategico eh e di questi giorni eh era entro il ventotto febbraio che le PA dovevano comunicare i propri piani di migrazione verso il cloud nazionale e nasce la piattaforma dei dati quella che farà parlare le banche dati tra di loro come voleva eh Bido Maria Rei nel millenovecentonovantatré e nascono sottosegretario Alessio Butti chiude il cerchio della governance attuale due misure importantissime del PNRR sulle quali mi piace soffermarmi due istanti il servizio civile digitale e i centri di facilitazione digitale perché noi potremo stare a lungo a parlare di queste cose meravigliose che stiamo realizzando anche i soldi del PNRR però l'occhio va sempre puntato ai cittadini coloro che in questo momento lo dirà il collega David Harris dopo di me non sono esattamente attrezzati per fruire di tutta questa innovazione e di tutti i vantaggi che la pubblica amministrazione può dare erogando i propri servizi eh elettronicamente attraverso la rete. Nel duemila e ventidue faccio scorrere i dati il novanta per cento dei comuni è aderito ad almeno uno degli avvisi su PA digitale venti ventisei oltre cinquemila amministrazioni sono state ammesse ai finanziamenti per la migrazione di servizi in cloud quattromira le pubbliche amministrazioni che hanno già avuto accesso alle risorse di PA digitale circa tremila hanno avuto accesso ai fondi per l'APIO che è stata in allerta finirà tutto là dentro quindi in un modo o nell'altro dobbiamo preparare i cittadini al fatto che tutto sarà fruibile attraverso quell'applicazione più di trenta milioni di cittadini hanno un'identità digitale tra speed e la carta di identità elettronica abbiamo avuto anche rassicurazioni dal sottosegretario butti che no che non è vero che per adesso speed rimane trentuno virgola nove milioni di cittadini hanno scaricato l'applicazione io duemila imprese stanno usando pago PA il cento per cento dei comuni italiani sono dentro l'anagrafe nazionale della popolazione residente alleluia è successo dopo quasi vent'anni sono quattordici certificati disponibili che si possono scaricare e sono diecimila duecentotrentasei mai abbastanza sottolineo mai abbastanza i responsabili per la transizione digitale che sono stati nominati dalle pubbliche amministrazioni i veri fautori di tante cose che accadono e che dovranno accadere quarantaquattro per cento delle amministrazioni quelle che hanno pubblicato gli obiettivi di accessibilità abbiamo la connettività abbiamo una qualità di servizi pubblici che si avvicina alla media europea abbiamo un capitale umano poco formato manca la possibilità di poter come dire prendere tutti i vantaggi che questa grande opportunità ci concede perché non siamo pronti perché come cittadinanza digitale purtroppo non abbiamo la valigetta degli attrezzi pronta se chiediamo perché e qui sto andando a chiudere la digitalizzazione della pubblica amministrazione non si è mai concretizzata diciamo che non è solamente un problema di risorse non abbiamo più l'alibi dell'innovazione a costo zero quindi questo come dire non ce lo possiamo più dire dobbiamo entrare in un'ottica di transizione culturale che non è solo immettere macchine e computer all'interno della pubblica amministrazione per consumare meno carta e per fare più agevolmente il lavoro come operatori pubblici ma per migliorare i servizi che eroghiamo eh ai cittadini perché ormai la transizione digitale è diventata una sfida sociale il motivo per cui la digitalizzazione della Pia non si è mai concretizzata non è ascrivibile alla mancanza di soldi né di computer è un problema soprattutto di tipo culturale e generale e non riguarda solo il capitale umano impiegato nella pubblica amministrazione ce l'ho fatta ho sforato scusatemi però ce l'ho fatta grazie Antonella hai fatto una non ti sento Roby adesso ti sento ok hai fatto una corsa finale grazie molte per questa che è stata davvero devo dire una una storia a parte una narrazione anche molto appassionata e di questo noi abbiamo molto bisogno nel senso abbiamo bisogno di persone che ci che ci credano ehm una devo dire 30 anni di di government di arrivare alla transizione digitale riassunti in 15 minuti grazie molte quindi credo che molte delle cose dei 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 temi in particolare che c'erano nella tua ultima slide saranno adesso quelli che vengono poi ripresi in particolare da David Harris quindi David ti chiedo di attivare il video perfetto benissimo quindi vediamo con David principi gli obiettivi gli strumenti della transizione digitale perché siamo qui eh prego David sì buonasera a tutti Adesso anche io condivido lo schermo e vediamo. Bene, obiettivi, principi, attori eccetera. Stasera vorrei proseguire quello che ha già detto Antonella per far vedere come la logica di dove siamo oggi in Italia, dove vogliamo andare, è anche molto coerente con quello che ci chiede Europa. Siamo parti e abbiamo partecipato e quindi si parte con la cosiddetta bussola digitale dell'Europa che ha quattro grossi obiettivi sull'infrastruttura sicura, sostanziali, rete, veloce, trasformazione digitale nelle imprese, nella cittadinanza, un popolazione qualificata. E poi la cosa che ci interessa più da vicino è la digitalizzazione dei settori pubblici. In particolare per la parte dei servizi pubblici parliamo di servizi pubblici fondamentali online, sanità online, fascicolo sanitario elettronico online, cartelle cliniche online e l'identità digitale. L'80% dei cittadini che possono utilizzare, diciamo, SPED o la carta nazionale o la carta identità. Quando parliamo di servizi online, per semplicità, quello che vorrei dire, tieni in mente il modello delle banche. E' home banking. Noi vogliamo che in qualsiasi pratica, istanza fatta in un comune, possa fare con la stessa semplicità che faccio un bonifico, con cui mi collega a Gmail o a Instagram o a Facebook. Lo faccio dal pc, lo faccio dal tablet, lo faccio dal mio cellulare ed è semplice. Questo è quello che vogliamo fare. Il punto d'arrivo delle 241 è questo. Io non devo andare da diversi uffici nella pubblica amministrazione. Una volta si diceva che il cittadino non deve fare il postino, fare gli uffici del comune. Adesso diciamo, sì, deve stare a casa, deve stare in ufficio, deve stare dove vuole e chiedere il servizio. Questo è l'obiettivo. Antonella ha fatto vedere una parte degli indicatori del DCI. Come vedete, l'Italia è sotto la media e abbiamo spazio da recuperare, dobbiamo lavorare. Vorrei citare, per dire dove siamo, le parole della Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Questa è una relazione da 2017 che poi è stata aggiornata in 2020. La Commissione fa notare che l'Italia si trova in coda all'indice europeo e, come diceva già Antonella, l'aspetto più evidente è la scarsa conoscenza e l'applicazione della normativa, la mancanza di consapevolezza dell'importanza del digitale, quindi le PIA non si sono dotate delle competenze tecnologiche e manageriali, informatica e giuridica necessarie, scarsa capacità di controllo delle spese e la mancanza di adeguate competenze interne. E la cosa interessante qua è che nessuno di questi, tranne un tocco qua, ha a che fare con tecnologia. Il problema è consapevolezza, competenza, risorse umane, che a tutt'oggi è forse il problema che domina nei piccoli comuni, perché, come ha detto Antonella, con i finanziamenti disponibili dal PNR, adesso i soldi ci sono e la capacità di utilizzare bene questi soldi. Molto, molto, molto sinteticamente, il CAD, che raccoglie la normativa sul digitale, chiede agli amministrazioni di fare queste poche cose, ok? Domicilio digitale, comunicazione. SPID, un unico modo per identificare, un unico logon, Italia, logon. Istanze, dichiarazioni, dati, scambio, avviene esclusivamente tramite il digitale. Semplificazione dei procedimenti amministrativi, quindi pago PA per i pagamenti, l'anagrafe nazionale, piattaforme di notifiche, l'accesso telematico ai servizi, metti tutto in rete. Quando parliamo di principi guida, se guardiamo sul sito dell'AGI, dei DTD, troveremo i primi otto. Poi ho aggiunto un altro, di evitare il lock-in, che non è descritto esplicitamente come un principio, ma è implicito e è descritto molto dall'ANAC. La prima è, ci sono, sono tutti importanti, ma alcuni hanno più, toccano più da vicino il comune. Il primo è il cloud first. Il cloud first significa che è la prima azione, elimina il data center locale. non ce la dovete avere più i vostri server locali. E per chi non sa esattamente cosa intendiamo per un cloud, oggi in molti comuni i nostri PC sono collegati ai server locali. Abbiamo il data center, che può essere una piccola stanza con uno o due server, o può essere molto più grosso. I data center sono costosi, perché deve avere amministratori, deve avere sistemisti, deve avere operatori, persone che inseriscono i patch della sicurezza, le nuove versioni dei sistemi operativi, controllano la rete, eccetera, eccetera. L'obiettivo è di eliminare i server dal locale e il cloud semplicemente vuol dire che tu non sai dove sono i dati, non sai dove sono i server e non hai bisogno di saperlo, perché come quando usi il tuo telefono e lo andiamo su YouTube o Facebook o Gmail o uno di altri, noi non sappiamo dove sono i server di tutti questi applicativi, sappiamo solo che vogliamo usarli, vogliamo avere questi servizi e questo mi porta al concetto di quali sono, cioè il cloud è un insieme di servizi informatici in modalità self-service. E quando parliamo di cloud è importante distinguere, perché spesso si sentono software as a service, platform as a service, infrastrutture, SaaS, PaaS e AS, voglio solo dirvi che per i comuni, la parte che interessa i comuni è l'apice di questa piramide, è il software come un servizio e significa che l'applicativo, il software è fornito al comune per il sistema informativo interno del comune e dai cittadini per quanto riguarda le stanze e così via e sono i servizi offerti. Quando voi contrattualizzate con i vostri fornitori in questi bandi P&R, voi state agendo su questo primo livello, state comprando software as a service e nota bene, non state più comprando licenze d'uso del software, cioè il modello di acquisto cambia, non state comprando licenza del loro software, state comprando un servizio che ha una tariffa e voi pagate un canone come tariffa, quindi non dovete più investire in hardware, tranne per i vostri PC, che possono essere browser abbastanza leggeri, non ci sono più i costi capitali, stiamo spostando a livello di bilancio da investimenti capitali in oneri spese correnti. Al di sotto il piattaforma di software abbiamo la parte che interessa i vostri fornitori perché il platform è fondamentalmente è fornito, è un ambito dove questi nostri fornitori possono installare il loro software. Loro hanno una piattaforma dove vengono installati i loro prodotti, e quindi loro comprano questo servizio e questo servizio di platform viene fornito da chi gestisce l'infrastruttura. Quindi il Polo Strategico Nazionale, l'Infrastruttura Nazionale per i Servizi Cloud è questo. Questi sono i server, le grandissime strutture, pieno di server, e banche dati, dischi e così via. Questo è un risorso di networking, capacità di storage, capacità elaborativa, e sta a questo livello. E qui si fanno il backup, il disaster recovery, la capacità in modo che, secondo le esigenze del momento, il cloud è capace di aumentare in automatico le risorse necessarie a soddisfare le esigenze. Ad esempio, se una regione, come succede spesso, per esempio nella regione Sardegna, decidi di fare un bando con un click day, in cui tutti i partecipanti devono inserire i loro dati ad un certo momento e prima arriva o vince, in quel momento tu hai il problema che il tuo normale sistema che è adeguato per un certo utilizzo, al momento del click viene la richiesta di servizio, viene moltiplicata per cento, per mille, secondo il numero di partecipanti. in un normale sistema di infrastruttura non lo puoi gestire e crolla il sistema e le bandi devono essere ripetute. Questo l'abbiamo visto in diverse regioni. Appena che porti invece tutto sul cloud, il cloud è capace di aggiustarsi dinamicamente alla richiesta di servizio. Quindi se in un dato istante viene moltiplicato per cento il carico sulle infrastrutture, l'infrastruttura è in grado di reggere questo. E questi sono i vantaggi. Ma ripeto, per il comune la cosa più importante è ricordare che voi state non comprando, ma state affittando software come un servizio. E questo è il primo, direi, principio per voi. Poi, non mi dilungo su tutti gli altri. Digital e mobile first vuol dire chiaramente pensi prima ai servizi in digitale e disponibili anche tramite sistemi tipo cellulare. Once only ha già toccato Antonella. Semplicemente significa ogni persona deve fornire una sola volta i propri dati. e vorrei dire, questo non è solo quello che pensi molti quando parliamo di SPID. Una volta che io ho dato i miei dati al SPID o alla carta di identità elettronica, quei dati possono essere utilizzati, faccio il mio login e precompilo l'istanza con quei dati. Non devo chiedere al cittadino di rinserire il nome, il codice fiscale, tutti quei dati, l'indirizzo. Quelli sono già disponibili in SPID. Ma non finisce lì. Il stesso concetto vuol dire se io, cittadino, compilo un'istanza online. E questa istanza deve essere ricompilata periodicamente o per l'occupazione del suolo pubblico o per l'ingresso in una zona traffico limitata. Quindi forse una volta ogni sei mesi, una volta all'anno, lo devo ricompilare questo. Once only significa quando entro per compilare l'ennesima volta questa pratica, mi verrà presentata l'istanza che ho compilato in precedenza e mi verrà chiesto di cambiare o modificare solo ciò che è diverso. Non devo ricompilare tutto. Una volta che ho dati i dati, sia anagrafici, sia di una specifica istanza, al pubblico, non devo farlo una seconda volta. Questa è la semplicità dove vogliamo arrivare per il cittadino. Infine vorrei parlare solo di un secondo del concetto di Lockeen, perché questo è stato discusso molto e è estremamente importante. Molto spesso il Lockeen fondamentalmente significa che il comune, no, il Lockeen è quando l'amministrazione non può cambiare facilmente il fornitore alla scadenza di un contratto. E ci possono essere molti motivi. Hai investito in hardware, costi di formazione delle personali del comune su un nuovo sistema, il costo di migrazione dei dati, costi amministrativi per fare un nuovo gara. Questi sono costi veri, sono problemi veri. Ma il problema è che il Lockeen nel mondo del software è estremamente comune, talmente comune, che l'ANAC ha deciso che deve affrontare il problema e ha scritto proprio la linea guida, la linea guida numero 8 dell'ANAC, che analizzando l'eccessivo e improprio, tra volte improprio, utilizza da parte delle stazioni appaltanti, delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. C'è tutto uno studio su questo e ANAC ricorda che puoi usare questo solo quando fa pochissime giustificazioni, cioè soprattutto che qualcosa è infungibile. E noi sappiamo che il software del comune in Italia non ci sono sistemi infungibili. Quindi, mi raccomando, state attenti perché l'occhio del governo, l'occhio dell'ANAC è molto focalizzato su questo. Quando ho parlato con molti piccoli comuni, non vogliono affrontare il cambio del fornitore. E la capisco perfettamente, però ANAC non sarà tenera su questo. Gli strumenti che abbiamo, l'abbiamo già detto, c'è SPED, c'è la carta identità, ci sono i sistemi, le piattaforme, PagoPA, l'APIO, l'ANPR, le vere piattaforme. Le reti, questo è molto importante perché il sistema è basato sull'idea che tutto il territorio deve essere coperto con reti a banda ultra larga. Io so che in molti comuni questa non è ancora vera. Qui è necessario, è fondamentale che il comune, quando pensa e passa al cloud, simultaneamente ragiona sul adeguamento delle proprie bande di connettività. perché se un comune sta lavorando con una rete inadeguata, lento, incerto, senza forse una rete di backup, e passi i tuoi dati e i tuoi programmi dai server locali a un fornitore in cloud, se la banda non è adeguata, avremo grossi problemi, perché non ci sarà un'adeguata connettività, non solo per i cittadini, ma proprio per gli indipendenti del comune. Non possono lavorare se non hanno accesso al proprio sistema informativo perché la rete crolla, ok, è inadeguata. Gli altri strumenti, obiettivi, interoperabilità, qui ci lavora l'AGID, servizi pubblici online, l'abbiamo già detto. Standards, questa è forse una delle cose più importanti che ha fatto l'AGID in questi ultimi anni. Ha scritto dei Standards, ha scritto dei Vadimicom su come fare, chi deve fare cose, quando. La professoressa Fancella ha parlato in termini molto positivi del sito dell'AGID e io condivido, questa è una delle cose più utili, ha fatto in molti anni, diversi siti. Ci sono standards che dicono cosa deve fare, è molto direttiva, si fa così. Per fortuna, e chi deve fare la maggior parte di queste cose a livello tecnico sono i fornitori, non i poveri comuni. I fornitori però hanno delle regole, hanno ricevuto delle regole. Il comune addirittura ha ricevuto indicazioni a come governare, come validare, come verificare, quale controlli fare per semplificare la gestione dei fornitori. Poi abbiamo il responsabile per la transizione digitale, che è uno dei ruoli più importanti, e abbiamo attività di sostegno a quel ruolo. Infatti, se guardate rete digitale.gov.it, si vede che esiste la propria rete digitale. E infine abbiamo i soldi. Non è più senso ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni, è tutto pagato. Gli attori, l'abbiamo detto, i principali attori sono i fornitori, scusami, gli enti locali, quindi l'RTD, e attenzione, il ruolo dell'RTD è estremamente importante. Le sanzioni vanno all'enti locali, ma il responsabile è il punto del diamante. Questo deve, se leggo solo l'ultima cosa, fra le molte attività in capo a questo ruolo, l'RTD competono tutti i poteri di impulso e coordinamento finalizzati alla piena transizione verso la modalità operativa digitale. Tutti i poteri di impulso e coordinamento. È un ruolo fondamentale, però non lo può fare da solo. Deve essere sostenuto dal resto del comune, particolarmente in un piccolo comune dove il numero di dipendenti sono limitato. Deve essere sostenuto dagli amministratori. Questi insieme fanno la differenza. Infatti, tornando a quello che c'era scritto nelle relazioni del Parlamento, delle commissioni parlamentari, loro hanno scritto che è necessario, c'è una necessità di modificare profondamente organizzazioni e processi, come peraltro previsti dalla legge da decine di anni. Cioè, senza una modifica alla logica dell'organizzazione e ai processi del comune, l'automazione è un po' zoppa. È necessario ripensare questo. Su quello parlerò di più Michele Vianello, quindi non mi dilungo. Gli altri enti pubblici, abbiamo già detto, è l'Agile, è il Dipartimento delle Trasformazioni Digitale, è Pago Pia, eccetera. I fornitori. Scegli il fornitore, ma il fornitore deve fare lavoro tecnico. Questi bandi, i primi bandi fatti per il PNR, mette l'onere sul fornitore. Se l'avete partecipato, l'avrete visto quanto sia facile partecipare a questi bandi. Voi dovete partecipare al bando. Il governo ha detto, bene, siete dentro, riceverete i finanziamenti. Dovete scegliere e contrattualizzare i fornitori. Il fornitore deve fare il lavoro. L'Agile vi aiuterà a collaudare il lavoro, perché se non viene collaudato, il governo non dà il soldo. c'è il team per le trasformazioni in ogni regione. Il DTD ha creato team di persone per aiutare i comuni con questi bandi e questi processi. I fornitori hanno ogni interesse a fare questo, perché loro ricevono i finanziamenti, infine. il comune è un intermediario fra il governo e i fornitori su questo. Infine abbiamo i cittadini e le imprese che sono i veri beneficiari. In parte sono i dipendenti, le strutture del pubblico amministrazione, perché ogni volta che spostiamo un servizio dallo sportello fisico, dove deve essere presente un dipendente, all'online, all'internet, si alleggerisce la pressione che si ha sullo sportello, sul dipendente, e si passa la palla al cittadino, che è felice, perché io sono felice che non devo più andare in banca a fare tutte quelle attività. Sono contento di avere questo modello self-service. mi libero, faccio quello che devo fare con la banca, quando voglio, come voglio, da dove voglio. Quindi i cittadini ottengono vantaggi. La pubblica amministrazione, ovviamente, ottiene vantaggio, perché semplifica e riduce di molto anche la pressione sui dipendenti. Tutto questo ci porta a questo insieme con cui chiudo questo, in cui si vede dove vogliamo arrivare, dove stiamo lavorando. Abbiamo le linee guida, i standard sui siti, sull'accessibilità. Abbiamo la normativa, il CAD, il piano trienale, il finanziamento PNR. Abbiamo gli attori. Abbiamo la rete di assistenza per i responsabili delle transizioni digitali. Abbiamo le piattaforme abilitanti, di cui ci ha pensato il governo per realizzare questi. Abbiamo tutta una serie di iniziative e abbiamo i datacenter, il PSN. Quindi questo è quello dove vogliamo, scusate, arrivare e questo è il nostro modello. Quindi io vi ringrazio e concludo. Grazie molto, David. Hai toccato tutti i temi centrali per noi, quindi ora vediamo cosa ci dirà Michele Vianello su come un piccolo comune può superare gli ostacoli. Ne hai parlato tu in particolare, David. Prego, Michele. Mi vedete? Buongiorno a tutti. Ti vediamo. Vediamo di riuscire a condividere. Dove sei? Eccolo qua. Ci siamo. Perfetto, lo vediamo. Ci siamo. Benissimo. Buongiorno a tutti voi. Non è un caso che io abbia chiamato, intitolato questa presentazione 2023-2024 La sfida. Ovviamente non è un film western o dove ci sono dei contendenti in campo. è che in realtà, da un lato, i finanziamenti PNRR, dall'altro il fatto che il Ministero per l'Innovazione, Agid, stiano presentando, cominciando a pubblicare nuove piattaforme, notifiche digitali, domicilio digitale del cittadino e così via. fanno sì, io penso, che nel corso di questo biennio si giochi tantissimo nel processo di, uso un termine, transizione al digitale, per un motivo che vi dirò poi, nel mondo delle pubbliche amministrazioni. Ovviamente i comuni in prima fila, in primo luogo. Quello che vorrei fare con voi nel corso di questi 20 minuti, mezz'ora, che mi è stato messo a disposizione, è prendervi un po' per le gambe, per i piedi, e tirarvi nel vostro lavoro di ogni giorno, nella vostra situazione. Chi vi parla lavora tantissimo professionalmente nei comuni, soprattutto a piccoli comuni, sono diventati un po' la mia passione, in unioni comunali. Quindi intuisco già alcune delle obiezioni che molti di voi avranno nel loro retropensiero ascoltandoci oggi. E cercherò un po' di dare in una qualche maniera una risposta, un aiuto, senza presunzione alcuna, che mi conosce e sa che sono tutt'altro di presuntuoso, sulla base di esperienza, di quello che io faccio quotidianamente con molti di voi, anche piccoli e piccolissimi. Partendo da questo punto, la mia collega Antonella, prima l'aveva già accennato. Qui sopra vi ho messo digitalizzazione, quelle due freccette vuol dire versus transizione al digitale. Agli interessanti spunti che ha detto prima Antonella, io vorrei aggiungere la considerazione che a me interessa di più per lo svolgimento del ragionamento che farò con voi oggi pomeriggio. C'è sempre stata questa pessima idea secondo la quale i comuni, i piccoli comuni, non si sono mai digitalizzati. È un'affermazione totalmente sbagliata. I comuni, se si intende, acquisto di software e di hardware, nel corso degli ultimi anni si sono abbondantemente digitalizzati. La mia battuta è che spesso forse si sono digitalizzati anche troppo, in modo sbagliato. Antonella vi ha fatto vedere un escurso storico di produzione legislativa. Quella produzione legislativa, più o meno buona, non è qui l'ambito in cui discutere della qualità della produzione legislativa in materia di digitalizzazione, non transizione al digitale, di digitalizzazione, è stata vissuta dai comuni, soprattutto piccoli, come una imposizione normativa. Non come una opportunità di cambiare, ma come una imposizione normativa. e l'attività che è sempre stata fatta è quella di rispetto delle scadenze. Entro il 28 febbraio del 2021 dobbiamo dare inizio ai nostri processi di utilizzo di speed e CIE. Panico in sala. Oddio, cosa devo fare? Entro il 28 febbraio. Entro il 31 marzo dovete pubblicare i vostri obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici. Oddio, cosa faccio? Digitalizzazione è sempre stata concepita come, chiamiamo Ferrari, Fiat, Renault, qui uso nomi di case automobilistiche per non fare i nomi dei noti che vi vendono software e hardware, non sarebbe elegante da parte mia. Quindi il tema è sempre stato affrontato comprando software. Io risolvo il mio problema comprando software. Un software di gestione documentale, un software SUE, un software SUAP, eccetera. Non si sono però mai affrontati il tema degli approcci organizzativi. Si è comprato software senza cambiare l'approccio organizzativo, per cui spesso il software ha consolidato le inefficienze organizzative, ha cioè generato un opposto rispetto a quanto ci aspettavamo. Faccio l'esempio di una cosa con la quale devo fare i conti praticamente ogni giorno nella mia attività professionale. Fatture sono tutte elettroniche. SUAP vi manda istanze digitali. SUE manda istanze digitali. Cominciano ad arrivare sempre di più istanze per le quali il cittadino si è identificato con SPID oppure con CIE. Arrivano al protocollo, arrivano in formato digitale, atto secondo, vengono tranquillamente fotocopiate, il fascicolo è ancora cartaceo, non c'è un fascicolo digitale, quindi il flusso digitale, documento amministrativo informatico, si trasforma poi in una prassi sbagliata e soprattutto illegittima perché non ha nessun valore probatorio. Quando noi parliamo di transizione al digitale intendiamo un processo costante. Io qui vi ho messo un traguardo 23-24 ma il processo di transizione al digitale è costante e non è semplicemente un processo legato alle piattaforme e ai software. è un processo organizzativo, è un processo di cambiamento del rapporto con i cittadini, è un processo di cambiamento culturale. Non si affronta correttamente il tema della transizione al digitale, non si applica ciò che è stato previsto dal CAD, serviranno a poco i finanziamenti PNRR se, come vi spiegherò più avanti, a monte non si ragiona sugli impatti organizzativi, formativi di utilizzo delle risorse umane. Il vostro guado, resterete, resteremo, meglio ci sono anch'io, sempre a metà del guado. Mi spiego meglio. Ho tratto, c'è un bellissimo studio di Banca d'Italia gennaio dello scorso anno sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, vale la pena di leggerlo. Quello studio di Banca d'Italia fa alcune affermazioni molto simili a questa che ho tratto proprio all'inizio dell'aggiornamento al piano triennale per l'informatica 2022-2024. Quando l'ho vista, ho detto, finalmente qualcuno parla il mio stesso linguaggio. Necessità di un'adeguata semplificazione dei procedimenti e un approccio sistematico alla gestione dei processi interni sotto il coordinamento del responsabile per la transizione al digitale. In questa frase ci stanno intanto due capisaldi fondamentali. Primo è quello che vi dicevo prima. Parallelamente al processo di transizione al digitale devi vedere i tuoi modelli organizzativi e il tuo modo di lavorare. Mi permetta, un vostro collega in chat ha fatto un'affermazione per farvi capire bene concretamente cosa intendo. Un vostro collega in chat prima fa una osservazione che mi porta a ragionare di questo. E lo ringrazio per questo. Salvatore Bevilacqua quando parla di Pagopiapro in mente. Dice io sì e metto gli EUV, ma il 90% dei cittadini continuano a pagare con gli IBAN. Sì, ma se la vostra modulistica continua a riprodurre gli IBAN, se il vostro sito istituzionale continua a riportare l'IBAN, se l'ufficio edilizia privata, che normalmente è il maggior colpevole, quando un cittadino, un professionista si presenta a pagare gli oneri di urbanizzazione, gli dà l'IBAN, è chiaro che voi non avrete mai riconciliazione contabile. Pagopià parallelamente prescrive l'abbandono dell'utilizzo degli IBAN. Lo dice la normativa, lo dice addirittura l'ANAC più volte. o cambia il modello organizzativo oppure non si va da nessuna parte. Se io chiedo ad un qualsiasi protocollatore perché scansioni, non sa cosa rispondermi, perché ne ha fatto un'attività standard. Se io chiedo ad uno, spesso, ad un protocollatore, ma non solo, perché inserisci un titolo o una classe, non mi risponde mai perché devo mettere una base prodromica fascicolare digitalmente. li scambia per due numeri che completano i metadati del protocollo. Non usa mai il termine metadati perché non sa bene che cos'è. La seconda osservazione è che, vedete, si parla esplicitamente di coordinamento del responsabile per la transizione al digitale. Il responsabile per la transizione al digitale non è il capo del CED, non è oppure una figura dove ci sono amministrazioni che hanno un CED, oppure una figura di ripiego come viene nei piccoli enti. Non so chi mettere, chi facciamo, il segretario generale. Peccato che quel segretario generale sia magari a scavalco di sette comuni, quindi l'RTD non ha tempo per farlo. Oppure chi facciamo, il ragioniere. Può essere un'ottima scelta se il ragioniere è formato. Ho trovato di tutto dal comandante della polizia municipale responsabile dell'ufficio tecnico. Il responsabile per la transizione al digitale è prima di tutto un coordinatore, è prima di tutto colui che Primus Interpares aiuta il cambiamento organizzativo e l'immissione di nuove piattaforme, di nuovi software e conduce ad un diverso approccio nei rapporti con i cittadini. Come vedremo questo avviene, va pianificato rigorosamente e per questo si utilizza il piano triennale per l'informatica. Poi mi direte e vi affronterò più avanti questo ragionamento ma noi siamo piccoli quindi cosa ci dici quando parli di dotato di un ufficio opportunamente strutturato. Capisco bene che in un comune di 3-4 dipendenti parlare di un ufficio opportunamente strutturato che si occupa di transizione al digitale è raccontarvi una sciocchezza assoluta perché in realtà è impossibile ma una soluzione c'è e ve la dirò alla fine di questa esposizione. quindi come vedete a Monte c'è un RTD che coordina e coinvolge strutture responsabili dell'organizzazione vedete l'organizzazione e del controllo strategico e questo è il punto fondamentale prima cosa che vi lascio oggi pomeriggio è necessario ragionare prima di tutto dei modelli organizzativi un buon modello organizzativo trae il massimo dalle piattaforme digitali il mantenimento di ciò che c'è impedisce al digitale di dispiegare tutte le proprie potenzialità insisto transizione al digitale non è che superata la scandenza del 28 febbraio il tema della transizione al digitale è accantonato è un processo che vi accompagna e vi accompagnerà costantemente nel corso di questi anni e dei prossimi anni vorrei togliere due immotivati pensieri negativi qualche volta sono anche un po' un pretesto ecco consentitemi da vecchio zio potrei dire che qualche volta è un po' un pretesto per non procedere il primo è non abbiamo soldi un anno fa avevate ragione se io un anno fa mi fossi presentato in un qualsiasi comune dicendo guardate a luglio sono uscite le nuove linee guida agito in materia di siti e di piattaforme digitali per cui i vostri attuali siti buttateli via perché francamente non rispondono più ai requisiti delle linee guida agito le quali a loro volta si rifanno i requisiti comunitari voi francamente mi avreste detto scusa Michele sei anche simpatico ma onestamente noi soldi per rifare il sito non ne abbiamo vai te dal sindaco perché il sindaco ci dirà che prioritario è tagliare le siepi nelle strade e turare le buche in mezzo per garantire i temi della viabilità tutte le risorse sono indirizzate a pagare i canoni ai fornitori di software in qualche caso se c'era ancora un CED a fare un po' di manutenzione sul CED e così via poco altro diciamo affitti di macchinari i telefonini e così via ma l'hanno già detto i miei due colleghi prima questa cosa non vale più grazie al PNRR e all'obiettivo M1C01 che si chiama digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni anche un comune di infime dimensioni con mezzo dipendente a 50 60 70 mila euro per rifare sito e piattaforma a tutte le risorse per il passaggio in cloud a tutte le risorse per adeguarsi alla tassonomia pago PA a tutte le risorse per speed CE a tutte le risorse per creare le API le API chiamiamole API fra i vostri software e piattaforma nazionale notifiche e le API con la piattaforma nazionale dati e così via le risorse adesso ci sono tutte a questa prima obiezione rispondo fra un attimo perché diceva giustamente David prima i soldi ci sono ma bisogna saperli spendere perché altrimenti se voi a monte non fate qualche passaggio abbiamo soldi ma poi vedrete cambia pochissimo seconda obiezione siamo piccoli siamo in quattro dipendenti questo quattro non è a caso è una sorta di media mediata perché i comuni sotto 5.000 dipendenti mi oscillano 12-13 dipendenti fino a chi anche ne ha mezzo ne ha uno e così via quindi così preso da da impeto in realtà siamo in quattro dipendenti questa è forse l'osservazione più fondata è la più fondata siamo piccoli ve lo dico già subito per esperienza un piccolo piccolissimo comune da solo non è in grado di affrontare per quanti soldi abbia dal bando PNRR non è in grado di affrontare le sfide 2023-2024 in modo corretto non vuol dire in assoluto non è in grado di affrontarle vuol dire non è in grado di affrontarlo in modo corretto cosa fa ma no anticipo un tema ve lo dico ve lo dico alla fine veniamo al primo punto questo tema abbiamo non abbiamo soldi questa come noto è la piattaforma PA digitale 2026 che è quella che consente a tutti voi di accedere e di monitorare costantemente l'andamento dei bandi nessuno di noi ha il compito in questo momento di spiegarvi come si accede alla piattaforma come si rende conta come si partecipa materialmente ai bandi non è compito nostro non è compito dell'attività che facciamo il compito mio però è di darvi qualche indicazione qualche dritta da uno che lavora sul campo come avete capito su come affrontare bene questo tema dell'afflusso dei finanziamenti che voi avete grazie a PA digitale 2026 perché se affrontati correttamente se spesi correttamente e parallelamente modelli organizzativi diversi e anche su questo vi parlerò più avanti può aiutarvi davvero a cambiare molto nella qualità del servizio che voi date al cittadino ma vi migliora immensamente le vostre performance lavorative il vostro modo di operare partiamo da un punto è l'unico su dove entrerò un po' nel merito di PA digitale 2026 ma è l'unico ma mi serve ugualmente uno dei grandi vantaggi di questi bandi è che in realtà non c'è burocrazia il termine lamp sam voi probabilmente l'avete sentito se avete scaricato anche i regolamenti avete visto che dappertutto quando si parla di bandi lamp sam lamp sam vuol dire che non c'è la rendicontazione burocratica c'è il raggiungimento di un obiettivo tu comune di vatte la pesca ricevi il finanziamento ex post quando cioè tu veramente hai messo i tuoi dati e i tuoi software in cloud viene verificato viene collaudato se hai raggiunto quell'obiettivo ricevi le risorse tu comune di vatte la pesca di sotto ricevi i tuoi finanziamenti se il tuo sito e la tua piattaforma risponde rigorosamente ai requisiti non solo espositivi ma anche di interazione con i cittadini di cui al regolamento del bando premia verifica e collaudo tu comune di vatte la pesca di sotto sopra ricevi i tuoi soldi sull'APIO non se hai una semplice esposizione di servizi che è stato il grande errore del bando innovazione io considero una cosa sciagurata perché scarsamente rigorosa ma se tu hai integrato l'APIO con i tuoi software gestionali e lì questo deve essere collaudato è chiaro che questo è un grande vantaggio perché tu abbatti totalmente il tema della rendicontazione burocratica quindi la rendicontazione delle pezze di spesa ma quello che tu rendi conti è un obiettivo il raggiungimento di un obiettivo se il mio sito è fatto in un certo modo ricevo il finanziamento non se ho prodotto tutte le carte corrette certo devi aver prodotto anche le carte corrette e le devi aver messo via in formato digitale sottolineo come previsto dal regolamento dei bandi ma deve funzionare il tuo sistema e qui capite si apre un bel problema qui come vedete io vi ho messo tre macro condizioni di successo è la prima condizione di successo rispetto al ragionamento che ci siamo fatti fino ad ora è che l'RTD per la prima volta ha una propria autonomia finanziaria fino ad ora il responsabile per la transizione al digitale per fare tutte le belle cose di cui ha parlato prima con grande efficacia e grande chiarezza senza piageria mi complimento Antonella Fancello lui non aveva una voce di spesa non era lasciamo stare il comune di Milano i grandi comuni qui stiamo parlando dei piccoli comuni il grosso dei comuni italiani quelli mille abitanti mille cinque ottocento quelli che incrocio in Carnia in Sardegna in Val d'Aosta quelli con tre dipendenti due dipendenti ammesso non concesso che esistesse un RTD mettiamola così era andare dal ragioniere e fra le tanti voci di spesa del comune trovare qualche fondo rimasto per poter procedere nel processo di digitalizzazione non di transizione al digitale e ovviamente lì le regole del gioco quasi sempre le dettava il ragioniere che parlava col sindaco e probabilmente poi i lavori pubblici che erano quelli che facevano sempre la parte del leone e quindi quella cosa che veniva chiamata informatica era sempre scusate il termine figlia di un dio minore era il piccolo anatrocolo in mezzo ai cigni e non è più così oggi l'RTD ha una propria autonomia finanziaria su fondi vincolati quei fondi non sono utilizzabili per far lampioni sono fondi utilizzabili per transizione al digitale obiettivo M1C01 digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni quindi per la prima volta eccolo qua il pezzo di potere il coordinamento l'RTD ha una autonomia finanziaria importante è sua attenzione perché l'RTD abbia propria autonomia finanziaria deve coincidere con la figura del RUP che presidia il raggiungimento dell'obiettivo ma per presidiare il raggiungimento dell'obiettivo bisogna avere delle idee progettuali chiare come si fa il nuovo sito istituzionale come si fa la nuova piattaforma di erogazione di servizi in modalità digitale lo decide il comune qui scatta un tema che a me è molto caro il tema della vostra autonomia culturale nei confronti nessuna sudditanza verso i fornitori nei confronti dei fornitori io so bene che in queste settimane la Ferrari la Fiat la Renault l'Alfa Romeo sono tutte venute con la valigetta e ognuno vi ha proposto il suo sito il suo speed il suo cloud il suo e alcune inevitabilmente saranno scelte obbligate perché se la Ferrari ti ha sempre dato i software di gestione documentale è evidente che il contratto per i cloud lo farai con la Ferrari io concordo totalmente con tutte le osservazioni che faceva David prima sulla necessità di evitare gli unici fornitori ma in alcuni casi sa benissimo anche David che l'ha detto sono scelti in una qualche maniera obbligate perché è troppo dispendioso ma il grosso di queste attività sei tu che devi dettarle tu RTD detti i tempi tu RTD detti le condizioni sia chiaro che se il progetto non va in porto obiettivo obiettivo per carenze del fornitore la responsabilità del fornitore ma soprattutto devo avere idee progettuali chiare non posso avere un approccio burocratico alla gestione dei bandi PNRR a monte deve esserci un pensiero ve lo farò vedere meglio nella slide successiva quindi nessuna sudditanza né verso i fornitori il fornitore lo scegliete voi dovete sceglierlo voi sapendo che in alcuni casi non sarà una scelta semplice perché il rischio di lock-in è che spesso alcuni prodotti che vi offriranno e che vi porteranno non garantiscono interoperabilità io posso avere anzi devo avere un sito della Ferrari e un sistema di gestione documentale della Fiat perché è obbligo di legge di Ferrari e di Fiat di garantire le API quindi cominciate a ragionare sul fatto che in questo dovete essere liberi io capisco che c'è una scelta semplice ha tutto a Ferrari e ho risolto il mio problema Ferrari ha il protocollo Ferrari ha il software di gestione documentale Ferrari ha il sito istituzionale tutto si parla e siamo a posto sì ma disse giustamente David David scusami David ma c'è il rischio di lock-in anzi c'è il fatto che c'è il lock-in e questo non è assolutamente corretto peraltro è vero che in fonte normativa non c'è un obbligo ad applicare il no lock-in ma nei bandi PNRR se si legge bene la documentazione c'è proprio una richiesta di evitare il più possibile il rischio di lock-in quindi si può avere un insieme di fornitori un insieme di fornitori questo è una condizione essenziale per fare davvero il salto di qualità cominciare a svincolarsi dai fornitori per svincolarsi dai fornitori però bisogna avere a monte un'idea progettuale chiara noi non ci occupiamo delle procedure ma aiutarvi ad avere idee progettuali chiare assolutamente sì come progettare un sito istituzionale che risponda ai requisiti dei bandi delle linee guidaggi meglio assolutamente sì come prima vi spiegava bene David il tema del cloud e così via quindi attenzione questa è una condizione di successo è una delle grandi opportunità 23-24 ma in questi prossimi due anni bisogna saper anche predire cosa succederà perché voi vi portate a casa i soldi dei bandi cominciate ad aumentare il numero delle servizi che voi non erogate che voi rendete disponibili in modalità digitale perché poi bisogna promuovere la domanda ovvero i cittadini che la utilizzano e quindi si moltiplica guardate in alto il numero delle identità digitali perché tutti ormai offrono servizi esclusivamente utilizzando speed e cie come voi sapete non è più possibile erogare servizi in modalità digitale con identità proprietarie si può fare esclusivamente con identità digitali speed e cie c'è un bando pnrr che aiuta anche gli ultimi a avere identità digitali speed e cie addirittura in modalità di erogazione open id connect quindi interamente seguendo quanto previsto dalla normativa europea questo vuol dire che voi avrete un impatto sempre maggiore di documenti in entrata documenti amministrativi digitali quindi non carta non frutto di scansioni ma documenti amministrativi digitali flusso sempre maggiore in entrata come è avvenuto per la fatturazione quando si è partiti dalla fatturazione digitale è diminuito cioè è sparito il numero delle fatture cartacee seppur spedite con pec con mail e così via ed è immediatamente iniziato un flusso interamente digitale che è stato protocollato automaticamente voi adesso avete un flusso avrete sempre di più un flusso di identità digitali sempre maggiori in entrata istanze che diventano ai sensi di legge documenti amministrativi informatici quelli che hanno valore probatorio quelli che devono andare in conservazione e così via è evidente che qui c'è tutta una ma pensate semplicemente impatto identità digitali a NPR chi vi parla è convintissimo che nell'arco dei prossimi 2-3 anni il lavoro di front office alle anagrafi non dico che sparisce ma viene di molto diminuito a NPR ha fatto fare un grandissimo salto di qualità il cambio di domicilio digitale me lo faccio a casa la richiesta di un certificato in stato famiglia me la faccio a casa e così via ricordatevi alcune parti del vostro comune avranno sempre di più un impatto molto molto forte questo impatto va previsto è un impatto al quale bisogna far fronte in una qualche maniera aumento delle transazioni economiche digitali perché motivo che dicevo prima prendendo pretesto da ciò che aveva scritto in chat il vostro il vostro collega pago PA si estende questo vuol dire che se si eliminano tutti gli IBAN se tutti i POS sono tutti POS indirizzati pago PA tanto per capirci se invece che dirgli ma guarda c'è l'IBAN li porti a generare autonomamente uno IUB è evidente che tu hai un aumento di riconciliazione contabile ed hai un aumento di transazioni economiche digitali ricordatevi sempre che uno dei diritti di cittadinanza digitale introdotto dalla madia come prima ricordava la mia collega e che è il cittadino che sceglie come pagare non è più possibile presentare al cittadino una modalità di pagamento dove lui non possa scegliere se lui lo fa in modalità digitale se lui lo fa in modalità cartacea se lui va in banca se lui va alle poste è il cittadino che sceglie Pago.pa non è lo strumento di pagamento Pago.pa è la piattaforma che convoglia diversi sistemi di pagamento questo è un problema che non è chiarissimo perché spesso si tende a dire che Pago.pa è un sistema di pagamento Pago.pa è una piattaforma che convoglia questo è una roba totalmente diversa cominciano ad aumentare i domicili digitali parte io mi auguro Inad il prima possibile indice nazionale dei domicili digitali dei cittadini vuol dire che il cittadino elege il proprio domicilio digitale cittadini liberi professionisti non iscritti agli albi le società le benefiche le parrocchie le associazioni degli alpini eleggono tutto un loro domicilio digitale ma questo implica che le notifiche cartacee diminuiscono perché a chi elege un domicilio digitale obbligatoriamente ogni forma di notifica va fatta digitalmente questo ha immediatamente un impatto ha un impatto sugli uffici tributi e va valutato perché l'ufficio tributi automaticamente è tutto carta al normale cittadino no perché appena parte Inad c'è carta a chi non ha eletto un domicilio digitale ma è obbligatoriamente una PEC al cittadino che invece ha domicilio digitale e questo presume che tutti gli originali delle notifiche che tu fai siano tutti inevitabilmente digitali sono tutti pdf firmati digitalmente e che c'è una forte interazione non più con le anagrafi dei comuni ma con l'anagrafi NPR perché i domicili digitali sono tutti domiciliati in NPR quindi NPR non è più il santuario del ministero degli interni e degli ufficiali anagrafici a NPR è uno strumento a disposizione di tutti ricordatevi è la prima delle piattaforme nazionali dati è la prima quella che sta in testa quella su cui si sta ad esempio integrando l'ISEE quella su cui si stanno integrando i domicili digitali capite che è un cambiamento molto forte non solo nel lavoro degli uffici anagrafe ma anche nel lavoro degli uffici tributi ma anche nel lavoro di polizia municipale quando fa notifiche codice della strada e così via e progressivamente va alla diminuzione di alcune attività quando parte la piattaforma nazionale notifiche messo notificatore è una figura che è finita bisogna fare un'attività di riqualificazione certamente non c'è alcun dubbio sia chiaro ma se io adesso devo programmare il bisogno di risorse umane è evidente che non punterò né all'anagrafe né ai messi notificatori dovrò puntare ad altre soluzioni ad altre professionalità questa mattina ragionando in un comune piccolo come il vostro del piano dei fabbisogni di formazione sul piano dei fabbisogni di assunzione gli ho fatto presente che fra ciò che bisogna chiedere nei concorsi di assunzione e mi hanno ringraziato perché non l'avevano previsto deve esserci una perfetta conoscenza del CAD chi viene assunto oggi in comune certo deve sapere cos'è il codice degli appalti ma non può non sapere cos'è il decreto legislativo 82-2005 e tutte le sue novellazioni perché tutti si dimenticano che il CAD è un erga omnes sta sopra tutti ed è una legge procedimentale non è la legge dei CED è la legge che detta come sono fatti i procedimenti delle pubbliche amministrazioni non può entrare in comune un soggetto che non sappia cos'è il codice dell'amministrazione digitale così come deve sapere quali sono gli strumenti di programmazione in primis il PIAO non può non sapere come si programma utilizzando il PIAO tutta questa cosa come vedete ha un impatto fortissimo sul flusso documentale perché il vostro flusso documentale come peraltro la normativa prevede non può più essere cartaceo perché tutti i documenti il 90% dei documenti sono ormai documenti nativi digitali sono in norma documenti amministrativi informatici e quindi ad un anno dalla piena entrata in vigore delle linee guida Agile su formazione gestione conservazione del documento informatico il vostro comune a che punto è soprattutto i procedimenti sono fascicolati digitalmente soprattutto la scansione viene fatta nella forma e nel contenuto a norma e così via mi avvio a concludere con la parte con due parti che a me interessa di più l'insieme di queste attività non sono più dettate da scadenze ormai quello che doveva scadere e quindi l'attesa del rinvio l'attesa della proroga come il messia l'attesa della proroga ormai speed c e pago pia l'ap o i siti e così via non ha scadenze devono essere fatte così quello che va fatto è imparare a pianificare la transizione al digitale va pianificata è stato pubblicato come spiegato prima i miei colleghi l'aggiornamento al piano trenale per l'informatica 2022-2024 ogni pubblica amministrazione per legge deve fare il proprio piano trenale per l'informatica rispettando gli indirizzi generali presentati da Agit io continuo a incontrare ancora tanti comuni non solo anche piccoli che non l'hanno mai fatto piano trenale per l'informatica è obbligatorio e non è un adempimento burocratico è lo strumento attraverso il quale voi pianificate queste attività quante identità digitali io varerò nel 2023-2024 utilizzando i soldi del bando PNRR quanti rispetterò tutta la tassonomia agi di materia di pago PA eccetera questo va quanti fascicoli digitali farà l'ufficio lavori pubblici fra il 2023 e il 2024 tutto questo va rigorosamente pianificato quindi il piano trenale per l'informatica è raccordato con il documento unitario di programmazione non ha bisogno di ricercare finanziamenti perché utilizza già il PNRR e tutti gli indirizzi e gli obiettivi di digitalizzazione vanno in performance fare il sito a norma portando a casa i soldi del PNRR è una performance regolarizzare pago PA è una performance fascicolare digitalmente è una performance quindi bisogna imparare a pianificare la transizione al digitale su questo nel questionario che vi verrà presentato c'è anche una nostra disponibilità veniamo al tema della dimensione che a volte non sto parlando con i presenti che già che ci siano è segno che sono molto interessati a volte ma sono piccolo siamo in tre siamo in due siamo in mezzo eccetera eccetera e questa può essere anche un'obiezione corretta nella gestione della transizione al digitale piccolo non è bello è solo un grande impiccio essere in tre in un comune perché hai 500 abitanti 700 abitanti 1000 abitanti essere in 5 in 4 so bene che è difficile avere l'RTD so bene che è impossibile avere insieme l'RTD il responsabile gestione documentale che oggi è digitale il responsabile della conservazione che oggi è ugualmente digitale è impossibile non potete fare sette parti in commedia e francamente il sindaco che dice si vabbè faccio il segretario generale vuol dire che non gli è chiarissimo qual è il ruolo di legge peraltro del responsabile per la transizione al digitale un consiglio la strada da imboccare per i piccoli comuni è la gestione associata della transizione al digitale ormai esistono tantissime esperienze nel nostro paese tante non sono più poche non sono più residuali tante di comuni anche di piccole dimensioni di medie dimensioni in tutte le parti d'Italia ne trovo in Friuli ne trovo in Lombardia ne trovo in Emilia-Romagna ne trovo in Carnia ne trovo dappertutto dove si sceglie scientemente che c'è un RTD di un'unione comunale un unico un unico RTD dove tutte le attività di transizione al digitale sono in gestione associata un RTD e quindi una serie di conseguenze positive da un punto di vista organizzativo se c'è un consiglio guardate una cosa su cui io mi sto battendo sempre di più anche per esperienza e con molta passione è questa di lavorare per favorire le gestioni associate della transizione al digitale non vuol dire che hai risolto tutti i problemi lo so bene ma so che la gestione associata vi fa fare passi da gigante in avanti credetemi sulla parola quali sono i possibili vantaggi intanto la qualificazione della figura dell'RTD perché un conto è essere in tre un conto è gestire 10 15 comuni 12 comuni 14 comuni in alcuni casi è una figura che già esisteva ma in altri casi adesso qui non faccio nomi cognomi non sarebbe neanche elegante ma in alcuni casi un po' di sindaci avveduti che hanno capito che il tema della transizione al digitale giocano molto anche loro e le loro comunità anche quelle di montagna nei prossimi anni scelgono addirittura di assumere una figura fascia D che faccia l'RTD oppure trovano una figura all'interno e fanno l'assunzione di una figura che abbia non competenze informatiche in questo momento non ci servono competenze informatiche abbiamo bisogno di competenze organizzative e di informatica giuridica e assieme parallelamente in gestione associata è anche più facile trovare figure che facciano la gestione documentale e la conservazione digitale e diventa molto più facile se io lavoro su un bacino di 60 70 dipendenti e incentivo questa figura trovo una soluzione peraltro se metti in performance la trasformazione digitale in modo adeguato dai anche una sorta di incentivo hai più forza contrattuale nel rapporto con i fornitori perché hai una persona che si qualifica una persona che studia ma soprattutto un conto è un comune tre dipendenti cinque dipendenti che tratta con la Ferrari dieci comuni hanno un altro potere contrattuale un forte potere contrattuale con i fornitori e determinano loro le regole del gioco un conto è fare un sito per un comune un conto è fare e progettare dieci siti è una cosa totalmente digersa ovviamente la massa critica economica a disposizione aumenta perché tu cominci ad avere una massa sia su ciò che è pregresso quindi i software quindi il rinnovare i contratti perché su questo devi darvi nuovo ragione cioè c'è il grande tema di andare a rinnovare i contratti di fornitura dei software però rifare una gara di un software di gestione documentale per un comune è una cosa farla per dieci è una roba totalmente diversa puoi avere più best practice da condividere cioè ci sono esempi ottimi anche in piccoli comuni ma che siccome nascono e muoiono fra dieci dipendenti servono poco best practice da condividere sempre di più fra tante unioni e in regioni grandi le unioni devono imparare peraltro a parlarsi fra di loro soprattutto se sono confinanti fra di loro non è una cattiveria se parlo anche di maggiore capacità contrattuale verso la funzione politica perché la funzione politica in questi anni mi si consenta la critica ha ragionato molto di lavori pubblici ha ragionato molto di urbanistica ma del processo di transizione digitale non ha parlato e francamente non ci salviamo l'anima se mettiamo in giunta un giovinotto di vent'anni che vi mette facebook o fa usare whatsapp al sindaco cosa secondo me assolutamente inutili cioè noi abbiamo bisogno di qualcuno anche da un punto di vista politico che divenga una interfaccia corretta che discute di un nuovo approccio organizzativo e di un nuovo rapporto con i cittadini digitalizzare il rapporto con i cittadini che non vuol dire togliere il rapporto umano sia chiaro ma dare l'opportunità a una persona di avere in modalità digitale i servizi almeno i principali servizi va a fare un salto di qualità anche dal punto di vista dell'offerta politica e dell'offerta dei servizi a disposizione infine formazione 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 perché una formazione degli RTD questo deve essere chiaro ma anche un'attività di formazione e di competenze digitali per tutti i dipendenti dall'umile protocollatore fin al capo dei lavori pubblici perché la sua piattaforma di gestione delle gare dipende da come è stato fatto il CAD quindi e se un cittadino si presenta allo sportello e ti dice ma io come faccio speed il comune deve essere in grado di dirgli come faccio speed quando si dà la nuova carta di identità elettronica non si dà il clone plastica della carta si dà uno strumento di identificazione digitale di firma digitale quindi allo sportello quando tu dai la carta di identità devi anche dirgli le nuove funzioni ma questo implica che lo devi sapere questo vuol dire che in questa fase il front office di un comune è un po' di badantato digitale nei confronti dei cittadini perché altrimenti questa grande sfida 2023-2024 temo che nonostante i soldi del PNRR farà ancora molta difficoltà ad andare avanti ho finito rieccomi grazie molto Michele vi chiediamo scusa di essere andati un po' lunghi ma insomma i temi lo richiedevano hai toccato Michele tutto tutto ciò di cui parleremo nei prossimi mesi direi che a vedere anche dalle osservazioni e dai commenti che sono stati fatti in chat c'era molto di grande interesse in particolare rilevo non c'erano domande c'erano molte osservazioni e commenti ad esempio i commenti riguardano anche il fatto che come dire sia un fatto di cultura per cui la popolazione il cittadino spesso che non è pronto su questo mi collego al tema del prossimo webinar che avremo il 16 marzo che sarà proprio sul cittadino digitale e quindi sulle competenze da sviluppare nel cittadino digitale e come però anche il comune si debba porre nella promozione dei suoi servizi quindi posso e poi mi taccio rispondere a Salvatore bevi l'acqua vai Salvatore ma il certificato digitale perché lo firmi in Cades se lo firmi in Cades il cittadino non riuscirà mai ad aprirlo perché non lo generi in pdf e lo firmi in Pades e il cittadino se lo metti in Pades lo apre tranquillamente il problema non è il cittadino il problema è che voi nella firma digitale utilizzate quella sbagliata corte costituzionale Pades e Cades sono la stessa identica cosa ma Pades lo apre tutti compreso la suocera di Michele Vianello Cades non è in grado minimamente di aprirlo l'errore non è del cittadino è che voi sbagliate il tipo di firma quando prima vi parlavo di modelli organizzativi chiaro ma non è polemico è per indicare dove dobbiamo lavorare ed aiutarvi perché qui c'è bisogno di aiutarvi scusami dell'interruzione no 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 ma per carità va benissimo ma ne continueremo a parlare nel senso che questi saranno temi di cui si continuerà a parlare io approfitto solo di voi per ancora un minuto adesso chiedo al collega dalla regia di mettere in chat il link al nostro sondaggio che vi abbiamo anticipato eccolo è stato messo adesso in chat nel sondaggio potete scegliere tra tre e cinque temi eccolo qua è semplicissimo dovete solo scegliere tra tre e cinque temi e indicare il vostro nome e la vostra amministrazione questo a noi serve come vi ho detto per programmare i webinar in base ai temi che vi interessano di più il sondaggio comunque il link al sondaggio ve lo manderemo per email insieme al link alla registrazione del webinar e alle slide con questo vi saluto ringrazio tutti i relatori per la loro disponibilità non so se vogliono tornare in video giusto per un saluto finale vi do appuntamento grazie anche Antonella perfetto grazie David do appuntamento a tutti allora per il 16 marzo sempre alle ore 15 riceverete come sempre il link per l'iscrizione al webinar grazie ancora e complimenti grazie ai nostri relatori saluti a tutti voi arrivederci buona giornata buon lavoro a tutti buonasera grazie grazie ciao a tutti ciao Antonella ciao David ciao ciao a tutti ciao Roma